Dopo quasi due anni di stop forzato dalla pandemia, torna la stagione di prosa del Teatro Comunale di Pietrasanta in un teatro completamente rimodernato e ristrutturato. Riparte a pieno e quindi siamo contenti e felici che poi alla fine si inaugura di fatto quello che è un teatro comunale dove abbiamo investito tanti soldi, l'abbiamo rinnovato e quindi direi un teatro importante dove si faranno sette spettacoli di altissima qualità. La Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus propone un cartellone di sette spettacoli che dal 23 novembre proseguirà fino al mese di aprile. Interpreti di primissimo livello e temi che in qualche maniera evocassero la leggerezza perché dopo questi lunghissimi mesi di sospensione del teatro, della socialità, della condivisione c'è bisogno anche di questo. Ma una leggerezza che come diceva Calvino non è superficialità ma è planare dalle cose dall'alto. Tutti attori di primo piano del panorama teatrale italiano. Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Ale Franz, Geppi, Marisa Laurito, Benedetto Casillo, Emilio Solfrizzi, Silvio Orlando, Alessandro Riccio e Simone Cristicchi. L'obiettivo è quello che noi abbiamo lasciato l'ultima volta che avevamo 260 abbonati che credo sia stato il massimo che ha avuto il teatro comunale. Raggiungere questo obiettivo sarebbe già la prima vittoria ma sono sicuro che raggiungeremo comunque un bello obiettivo.